ciao vanda in questo video vi presento hotel rappelent casa pro staff è un antipioggia da applicare sui finestrini della vostra auto con un risultato eccellente andiamo a vedere come lo applichiamo prima di tutto laviamo per bene il vetro e poi andiamo ad applicare il prodotto schiacciamo bene sulla boccetta per far impregnare questa parte qui una volta finito questo processo andiamo a rimuovere il prodotto in eccesso in questo modo con water repellent i vostri vetri saranno sempre asciuti meno calcare e una bella visibilità